No al velo che copre per intero il viso delle donne islamiche, così il sindaco di San Dona di Piave Alberto Teso ha le quattro associazioni di musulmani presenti in città e che riuniscono un migliaio circa di persone. La richiesta nell'incontro avvenuto in municipio giovedì scorso 18 luglio. Il niqab, il burqa ovviamente sono quelli che vediamo utilizzati purtroppo ancora spesso e che coprono completamente il volto lasciando scoperti solo gli occhi. Ecco questo, ho spiegato loro, ho cercato di spiegare, rende per la comunità sandonatese e per gli italiani in genere difficile realizzare una vera e propria integrazione, un colloquio, è difficile aprirsi su chi si presenta vestita in questa maniera. La richiesta è quella di firmare un protocollo di intesa almeno per limitare l'uso del niqab e del burqa anche per questioni di sicurezza, ad esempio in ambito scolastico, quando cioè una donna araba deve andare a prendere il figlio a scuola. E se poi in casi malaugurati qualcuno lo rapisse o lo portasse via, chi ci dice chi c'è effettivamente dietro a quel velo? I dubbi del primo cittadino. Perché altrimenti se succede qualcosa all'uscita della scuola ne risponde l'insegnante. Ho visto che su questo pareva che avessi toccato un tasto sensibile. Le resistenze maggiori dalle comunità bengalesi, spiega Teso. Mi hanno dato una risposta molto positiva, come dicevo, alla comunità nordafricana. I bengalesi hanno cercato di dirmi sì, ma sono le donne che lo vogliono, ma noi li lasciamo libere. Insomma, io ho cercato di spiegare, insomma, ho detto che l'integrazione sia da entrambe le parti. Da parte sua il sindaco presenta la prima vigilessa ex-migrante, che a partire da agosto prenderà servizio dopo aver vinto il regolare concorso. A lei il compito, sebbene simbolico, di ambasciatrice per l'integrazione, specie tra le donne musulmane. La giovane Neza Etouri, che è una ragazza marocchina di 23 anni, italo-marocchina, cittadinanza italiana, ma nata in Marocco, che il primo agosto prenderà servizio come agente della nostra polizia locale. Avremo quindi per la prima volta una gente, donna, musulmana, che parla l'arabo e che ci aiuterà a buttare giù un altro pezzo di questo muro che separa noi e gli immigrati di cultura e fede islamiche.